Mi piace ricordare che siamo ancora oggi la terza sanità mondiale, lo dice l'OMS, non lo diciamo noi. Sulla parte tecnologica spesso e volentieri siamo, come dire, non al primissimo posto perché non riusciamo a integrare le informazioni e i dati come fanno altri paesi europei. Però oggi si è stati un po' indivachi fra ottimismo e pessimismo, fra risorse che ci sono e risorse che non ci sono. Io credo che attraverso un utilizzo intelligente della tecnologia, se si riesce a dare una governance tecnologica al servizio sanitario nazionale, noi potremo sicuramente migliorare e potremo sicuramente ottimizzare i servizi. Risparmiare in sanità è molto difficile perché sappiamo che viviamo molto più a lungo e che quindi dobbiamo avere cure più a lungo. E quindi secondo me si potrà razionalizzare un po' la spesa rinvestendo in quello che è ovviamente il territorio, quindi le cure domiciliari e quant'altro. Con l'ausilio di tecnologie che ci consentono di spostarci sempre meno, telemedicina, telemonitoraggio, ma anche con le app che abbiamo visto oggi presentate dalla Regione Lombardia, dall'Aslo 1 e altre applicazioni che attraverso gli smartphone, telefonini, televisori e quant'altro possono dare una mano al servizio sanitario nazionale, ai medici e a tutti quelli che sono.